Oggi conviene fare il mutuo con il tasso fisso o con il tasso variabile? La maggior parte delle persone dice variabile, variabile perché che vuoi che i tassi dove vadano? Che aumentano di più? Oggi possono solo che scendere, il fisso è alto, quindi faccio il variabile così oggi pago tanto ma domani magari pago meno. No, no, non va bene, assolutamente no. Intanto diciamo che in qualsiasi momento voi andate a scegliere tra tasso fisso e tasso variabile non ce n'è uno che conviene rispetto all'altro perché altrimenti si creerebbero delle opportunità di arbitraggio sul mercato ossia per avere dei profitti senza rischio. Quindi in qualsiasi momento la differenza tra tasso fisso e tasso variabile non c'è un meglio rispetto all'altro, non esiste perché altrimenti ci sarebbero questi arbitraggi. Per la vostra situazione personale conviene il tasso fisso o il tasso variabile che vuol dire? Vuol dire che il variabile non vi permette di pianificare il futuro perché la rata può cambiare di mese in mese, per informazioni chiedere a chi ha fatto il variabile qualche anno fa che non è particolarmente contento, quindi vi potrebbe scendere ma se aumentano i tassi e la rata vi aumenta ancora di più potrebbe succedere, assolutamente sì. Invece il tasso fisso seppur oggi è alto vi permette di pianificare il futuro perché sapete quanto pagate ogni singolo mese e per di più se poi i tassi dovessero scendere avete delle diverse opzioni per andare a rinegoziare il tasso fisso abbassandolo oppure andare a fare una surroga, quindi sempre tasso fisso.